bellissime bellissime come state spero benone che caldo che fa oggi un video così lampo per due motivi uno voglio ringraziare chi mi segue nuovamente perché veramente sono felicissima per il fatto che qualcuno che mi piace lo mette i miei video quindi mi è concesso che magari sono un po' una ciofeca nel fare i video però vi sono grata perché chi mi segue davvero è molto paziente però grazie mille ragazzi un bacino grandissimo a chi mi segue chi guarda i miei video chi si iscrive al canale che ci passa solamente per curiosità ma un occhio ce lo butta grazie davvero seconda cosa prossimamente uno dei prossimi video tratterà un argomento un po' particolare mi è stato lanciato un argomento da Cinzia Savona vi invito ad andare a vedere il suo canale che è fantastico e praticamente un argomento un po' particolare stavo dicendo l'argomento legato al sesso ok quindi come non fare cilecca come aumentare la virilità come migliorare le prestazioni sessuali come vivere in maniera molto più felice la sessualità aiutandoci anche tramite prodotti naturali quindi sto studiando ho già competenze in questa cosa però sto studiando un video che ovviamente non deve essere e non vuole essere assolutamente uno né volgare né vuole essere un qualcosa di medico perché non posso sostituirmi a medici sessuali psicologi nel caso in cui ci siano problematiche serie però siccome tutti possiamo comunque dare un apporto nel senso e poi utilizzando i prodotti naturali possiamo veramente aiutarci sia elementi che possiamo mangiare e che ci aiutano a vivere una sessualità migliore sia oli prodotti comunque sempre diciamo sì naturali addirittura sono prodotti che si possono acquistare in eboristeria che ci possono dare veramente una mano per tutte le problematiche a livello di sessualità come migliorare proprio le nostre prestazioni uomo donna poi magari divideremo il video prima magari parlerò del discorso uomo poi farò un video sul discorso donna comunque prossimamente se vi interesserà a questo tipo di video restate sintonizzati un bacione ciao